Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video su Jackie Channel Oggi siamo qui per festeggiare, per festeggiare i 300 iscritti che ho fatto sul canale e per festeggiare i numeri risultati che stiamo facendo con i nostri video Sono veramente contento perché ho visto che le tematiche che stiamo affrontando e i progetti che ho iniziato stanno andando veramente bene Come potete notare i video prevalentemente più visti sono quelli che riguardano Clash Royale ma come a grande sorpresa ho visto che anche i video non di Clash Royale stanno comunque riscuotendo abbastanza successo Riesco ad avere una media di 100 visualizzazioni su ogni video e anche una media mi piace molto buona Nei prossimi mesi voglio cercare di raggiungere risultati ancora migliori e spero di farcela Quindi il mio grande ringraziamento va a voi e ai miei iscritti e come al solito io spero sempre che mettete like, mi piace, condividete perché voglio al più presto raggiungere un certo livello di iscritti elevato voglio che i miei progetti, le mie idee si diffondano al più presto possibile Questo vlog lo faccio anche per altri motivi Voglio dirvi innanzitutto che i progetti che ho iniziato li proseguirò e prima di iniziare di nuovi voglio completare prima questi Allora ho visto che il progetto che riguarda i film è stato abbastanza visto non tanto come Clash Royale come vi ho detto Il mio prossimo obiettivo qual è? Acquistare l'Elgato che è appunto un dispositivo capace di registrare video e immagini dalla Xbox dalle console per realizzare anche video di gameplay, wall trout, di videogiochi quindi non semplicemente giocare a FIFA, Call of Duty che sono i giochi del momento ma comunque vi porterò dei giochi anche del momento nuovi e ve li illustrerò all'interno di questi gameplay Continuerò a fare video su serie tv e film Devo al più presto portarvene di nuove Avevo intenzione appunto di fare nei prossimi giorni un video su una nuova serie tv che ho visto e che mi interessa recensirvi Voglio continuare con i film portandomene degli altri e come al solito mostrarvi dei legami tra questi film e miei interessi quindi non una semplice recensione e voglio cominciare a portarvi anche i film non solo di nicchia ma film che magari ho visto attualmente al cinema di cui voglio parlarvene e non voglio farvi spoiler, non voglio rovinarvi la sorpresa ma voglio iniziare anche a commentare delle puntate di alcune serie tv che sono uscite in questa settimana, in questo mese quindi non solo serie tv che ho visto e di cui voglio parlare ma serie tv appunto del momento che sono uscite anche in questa settimana quindi questo è un videoblog per annunciarvi la mia contentezza per questi iscritti per dirvi che i risultati sul video che sto pubblicando sono molto buoni ci vediamo presto con prossimi video grazie a tutti di aver visto questo video lasciate mi piace, like, commentate a presto da Jacky Channel grazie a tutti